La parola di Dio Se noi vogliamo avvicinarci alla parola di Dio, se vogliamo progredire nella conoscenza della parola di Dio, dobbiamo amare. Non facciamo nulla nella nostra vita se non amiamo. Quando facciamo qualcosa per dovere, questa cosa o questa azione si trasforma in un peso che qualche volta diventa anche insopportabile. E allora amare la parola di Dio significa che noi poco a poco impariamo a conoscere il cuore di Dio nelle sue parole, frequentando le sue parole contenute nei Vangeli, nelle lettere apostoliche, nell'Antico Testamento. Poco a poco impariamo a conoscere il cuore di Dio, a entrare in sintonia con Lui. Quindi conoscere la parola di Dio, amare la parola di Dio e vivere la parola di Dio, perché a nulla serve conoscerla, a nulla serve amarla se poi non si trasforma in vita. Perché se non si fa vivere, se non si fa vivere, se non si aiuta a vivere. E allora vedete, la Bibbia finché resta uno scaffale nella nostra casa, resta un libro morto. Anche se contiene la parola di Dio, quando è che comincia a vivere quel libro, quella parola? Comincia a vivere quando noi cominciamo a leggerla, cominciamo a meditarla, cominciamo a conoscerla, cominciamo ad amarla e ci sforziamo di viverla, nonostante la fatica, le facilità e le difficoltà che incontriamo solo in quel momento, quella parola di Dio diventa viva, diventa viva in noi e diventa vita per noi, diventa quella radice che trasporta la linfa vitale all'albero che è la nostra esistenza e la nostra vita. Ci permette di mettere i fiori e di dare frutti, quei frutti che sono i pensieri di Dio, che sono i sentimenti di Dio, che è la volontà, che è la volontà del Signore. E allora, per concludere, possiamo mettere nel nostro cuore questa domanda, abbiamo fame noi della parola di Dio? Sentiamo questa fame dentro di noi? Oppure l'ascolto della parola di Dio anche quando veniamo in Chiesa diventa un peso, un dovere, ma adesso ho compiuto il mio dovere e sono al posto con Dio e con la comunità. E quanto, e quanto vi importa poi a saziare questa fame? E guardate che non occorre fare cose straordinarie. Penso che se noi riuscissimo a dedicare tutti i giorni anche cinque minuti, cinque minuti non mi servono forse di più, per prendere in mano il Vangelo, leggere qualche riga di quel Vangelo e ascoltare che cosa mi vuol dire Gesù in questo momento della mia vita, nelle situazioni che sto vivendo, in quello che sto sentendo, in quello che sto provando, che cosa mi sta dicendo con la sua parola? Perché quella parola che pure è stata scritta tanti e tanti anni fa è una parola viva che Gesù dice per me oggi, quale che sia la mia età, quale che sia la mia cultura. È una parola che arriva a toccarsi il cuore. Che cosa mi vuol dire Gesù oggi, nella mia situazione, attraverso questa parola? Se riuscissimo tutti i giorni, cinque, mi dedicare cinque minuti a questo incontro con la parola di Dio, poco a poco, come Maria, anche noi diventeremo familiari della parola di Dio. Quella parola diventerebbe, potrebbe diventare la nostra casa dove ci troviamo bene, dove viviamo bene, ci sentiamo come amati, come accolti, orientati nella nostra donna. Domandiamo per l'intercessione di Maria, allora, questo dono e questa grazia per noi oggi, perché per sostenere il nostro desiderio di percorrere la stessa strada che ha percorso Maria, diventare anche noi discepoli della parola del Signore, familiari, nella parola del Signore, di casa, nella parola del Signore. E' veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla Sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e mangiatele tu, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tu, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di lei. Mistero della fede. Annunziamo tutti i peccati del mondo, Mistero della fede. Crisere e nobis, Crisere e nobis, Crisere e nobis, Crisere e nobis, Crisere e nobis. Crisere e nobis, Crisere e nobis. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.